buongiorno a tutti ragazzi benvenuti sul set stanno portando via l'hammer di srotto abbiamo sentito una forte esplosione tutte le macchine sul set hanno una doppia copia ci sono due hammer e due gold a car questo è il set completo con tutti gli operatori e tecnici oggi si sta girando in questa piazzetta sono state messe delle lastre di ferro a terra e vedete un hammer il tir e la macchina arancione in mezzo tutto fortemente blindato i ragazzi stanno facendo pausa pranzo i ragazzi stanno facendo pausa pranzo e e e e e e e